E' Andrea Conti l'attrata dell'anno di Monte San Zavino. Ovviamente il sogno più grande è quello dei Cinque Cerchi e vorrei portare appunto Monte San Zavino alle Olimpiadi un giorno. Taekwondo Ka classe 2002 della NRG Marezzo si è giudicato la prima edizione del premio Augusto Frullani, riconoscimento che il Comune ha istituito il ricordo del famoso concittadino e giocatore di palla col bracciale per premiare i migliori atleti della città, del presente e del passato. Tutti insieme speriamo che porti il nome di Monte San Zavino anche alle Olimpiadi. So che un suo desiderio è un desiderio di tutti i savinessi. Rappresenta l'impegno, la dedizione e che poi si trasformano anche in risultati sportivi, che penso che sia la cosa più importante. Quindi da parte di tutta l'amministrazione che rappresenta un forte augurio e anche nello stesso tempo un forte ringraziamento per quello che sta facendo dello sport. Andrea Conti, savinese doc, già quattro volte vincitore della medaglia d'oro ai campionati italiani di taekwondo, lo scorso giugno si è giudicato il terzo posto agli European Games 2023 di Cracovia. Ringrazio tutti i cittadini e lo dedico a tutti loro per il loro sostegno che mi danno ogni giorno e mi chiedono della mia vita, dei miei allenamenti e delle mie gare. Quindi questo premio va a tutti loro, alla mia famiglia, ai miei genitori ovviamente per il supporto, al mio fratello che mi ha trasmesso questa splendida voglia di continuare a combattere, al mio allenatore Antonino Cappello che ha iniziato con me questo splendido percorso e soprattutto a tutti i ragazzi dell'Energy Me Taekwondo Arezzo che mi supportano allenamento per allenamento. Grazie a tutti.